Do adesso la parola a Simona Savini di Greenpeace e raccomando solo ai prossimi relatori i tempi, Marta sei stata perfettamente nei 15 minuti, così ci sarà più spazio per le domande. Prego Simona, puoi attivare il microfono. Sì, la buona notizia è che molte cose sono state dette negli interventi che sono stati fatti prima, quindi io sarò piuttosto rapida, spero ben al di sotto dei 15 minuti. E pensavo di concentrarmi in particolar modo sugli aspetti che legano la questione acqua all'agricoltura, questo un po' perché è l'argomento di cui mi occupo in Greenpeace Italia, ma è anche un po' la chiave che Greenpeace Italia ha scelto di utilizzare per approcciarsi al tema acqua e portando avanti le due macrocause della questione scarsità idrica. Una è ovviamente quella legata ai cambiamenti climatici, quindi all'uso dei combustibili fossili, quindi che interviene sulla disponibilità idrica con i tempi lunghi dei fenomeni climatici e l'altra è quella del lato dei consumi idrici che in gran parte dipendono proprio dal sottottero agricolo. Mi interessa molto parlare del settore agricolo anche in questo contesto perché è molto più politico di quello che io stessa pensavo prima di iniziare ad occuparmene. È il primo settore che vediamo sui giornali o che vediamo in televisione quando piove di meno e quando c'è un momento di scarsità idrica. È anche il primo che attraverso le sue organizzazioni di categoria molto potenti è il primo che si trova sempre nelle stanze dove si prendono le decisioni, che si trova nelle stanze del Ministero dell'Agricoltura quando c'è da decidere che cosa votare in Europa rispetto alle normative europee che cercano di spingere i sistemi agricoli verso modelli più ecosostenibili. E troviamo nel decreto siccità molte richieste che vengono dal mondo dell'agricoltura. Noi ieri in un incontro informale insieme ad altre realtà c'era anche il CIRF con il suo presidente abbiamo incontrato il commissario alla siccità. Un incontro molto informale più di scambio di informazioni tecniche. Cito solamente una cosa, noi abbiamo chiesto, tra le prime cose che abbiamo chiesto è questo famoso piano laghetti e piano invasi che col diretti continua a chiedere che sembra la soluzione di tutti i problemi per l'agricoltura per capire un po' quali fossero i criteri, dove si pensava di fare questi laghetti, in che numero eccetera. In realtà questo piano non ce l'ha nessuno, però magari non è proprio un argomento che appassiona le masse, ma quando si legge sui giornali di acqua e di agricoltura, nove volte su dieci c'è col diretti che dice abbiamo bisogno di fare il piano laghetti e il piano invasi. Il piano laghetti che non lo so, il commissario non ce l'ha, se non ce l'ha lui non sappiamo chi possa averlo. Questo per dire che il settore agricolo è molto vocale, è molto vocale sui media, è molto vocale in Europa, è molto vocale nel fare lobby e anche molto efficace, tant'è che appunto prima veniva detto oggi abbiamo rischiato seriamente di bocciare una normativa europea che invece può traghettare diciamo il nostro sistema agricolo e quindi anche la possibilità di conservare meglio la nostra risorsa idrica verso insomma la giusta direzione. Provo a dire qualche numero che magari aiuta anche a capire perché Greenpeace concentra la sua campagna sulla questione della zootecnia intensiva. Sappiamo tutti che il maggiore utilizzatore di acqua in Italia, ma diciamo in tanti paesi del sud Europa è l'agricoltura, in Italia secondo le ultime stime il 56% è destinato al settore agricolo anche se, e questo è il primo macro problema che andrebbe risolto urgentissimamente, le stime, cioè tutto ciò che riguarda il consumo di acqua in agricoltura è una stima perché non c'è una vera e propria registrazione di come viene utilizzata l'acqua, di chi la eroga, di dove viene presa, ci sono mille fonti diverse, lo stesso azienda agricola può avere mille fonti diverse e quindi non si ha mai contezza veramente di quanta acqua viene utilizzata e di quali coltivazioni e produzioni questa vada alimentare. Quindi diciamo la prima cosa assolutamente che si dovrebbe fare, soprattutto mentre nello stesso decreto siccità c'è quell'imbarazzante articolo che parla di comunicazione, di come spiegare alle cittadine e ai cittadini di consumare meno acqua, ecco la primissima cosa che dovrebbe fare la cabina di regia è quella proprio di finalmente trovare un modo per mettere a sistema i prelievi di acqua destinati all'agricoltura. L'altro aspetto è per quali terreni e per quanti terreni viene usata quest'acqua e per che tipo di irrigazione. Si punta molto anche qua con molta vocalità sulle tecniche di irrigazione e si punta sul dire che possiamo risparmiare tantissima acqua con tecniche di irrigazione più efficace e automatizzando l'irrigazione, l'agricoltura 4.0, l'intelligenza artificiale eccetera che sono senz'altro tutte cose che possono essere utili e possono servire. Il problema però quando si parla di grandi volumi di acqua e di grandi quantità è avere prima il quadro macro e poi capire dove posso andare a risparmiare con l'irrigazione a goccia. Il quadro macro ci dice che in Europa due terzi dei terreni agricoli sono utilizzati non per produrre cibo ma per produrre mangimi per gli allevamenti intensivi. Quindi già questa percentuale diciamo ci parla di un'efficienza molto limitata del nostro sistema agricolo sulla quale ci sarebbe molto da fare, ci sarebbe molto margine per intervenire perché noi siamo tutte società che non hanno bisogno di aumentare il proprio consumo di carne ma anzi hanno bisogno di diminuirlo, consumiamo 4 volte più prodotti animali rispetto a 50 anni fa e per quanto l'Italia si racconti che la sua dieta mediterranea è invece più sostenibile di diete ad esempio centro-europei questa cosa non è vera. Il nostro consumo, le statistiche ci dicono che il nostro consumo di prodotti animali è assolutamente allineato a quello della Germania per dire. Quindi la priorità dovrebbe essere andare a vedere dove c'è margine di miglioramento e di risparmio. Il risparmio di terreni agricoli, dedicare più terreni agricoli a produrre cibo invece che a produrre mangimi è il passaggio obbligato per coltivare in modo diverso quei terreni. La riconversione totale e completa in versione agroecologica delle nostre coltivazioni non può avvenire su questo col diretti ha ragione e non può avvenire per un motivo perché è vero che con l'agroecologia diminuiscono i livelli produttivi quindi noi dobbiamo poterci permettere di produrre di meno dobbiamo poterci permettere di produrre di meno per produrre meglio, per produrre attraverso tecniche più in equilibrio con gli ecosistemi e questo può avvenire liberando un po' di terreni da questa pressione continua che si ha per produrre sempre più mangimi. Anche rispetto all'acqua in parte sono state fatte queste estime, in parte perché appunto in agricoltura non si capisce molto di come viene utilizzata l'acqua. L'ultimo censimento degli usi idrici in agricoltura è stato fatto nel 2010, appunto noi abbiamo avuto dieci anni in cui i fenomeni siccitosi sono senz'altro si sono aggravati, in cui l'agricoltura ha pianto lacrime amare e questo nessuno lo nega, però nessuno è venuto in mente che forse serviva un altro censimento di come viene usata l'acqua in agricoltura. Quello del 2010 comunque ci dice che almeno un terzo dell'acqua utilizzata per l'irrigazione in Italia e finisce a irrigare terreni che producono mangimi, di nuovo per gli allevamenti intensivi, coprendo tra l'altro solamente un quarto del fabbisogno di questi allevamenti perché poi tutto il resto lo prendiamo da Sud America, dall'Argentina, la Soia eccetera. Quindi se dovessimo immaginarlo con un disegno c'è un po' questa gigantesca bocca sempre aperta che richiede sempre più cibo per poi alla fine della catena far mangiare noi, farci mangiare appunto livelli di carne che magari non ci fanno neanche troppo bene. Questo è una specie di tabù, non tra noi, non tra i movimenti, però rispetto alla politica è veramente un tabù. Quando si parla di riduzione della produzione è sempre un tabù, se ne parli nel settore energetico, nel settore industriale. Quando se ne parla nel settore alimentare è un tabù ancora più grande, ci viene detto che si vuole colpire il made in Italy, mettere in ginocchio piccoli allevatori. Questa cosa in realtà non è assolutamente vera perché il sistema ormai agricolo e zootecnico europeo e italiano sta tagliando fuori piccoli e questo lo dice Eurostat sempre di più e sta vedendo aggregazioni sempre più grandi. Quindi ormai ci sono padroncini e aziende medio-grandi che operano sul territorio a volte rispettando le regole, a volte non rispettandole. Il problema è che anche quando le rispettano è il sistema di per sé ad essere insostenibile. Per fare questo avremmo tantissimi soldi e l'agricoltura è sostenuta giustamente dalla politica agricola comune e a questa linea di finanziamento l'Europa dedica circa il 40% del suo bilancio annuale, quindi tantissimi soldi ai quali si aggiungono i soldi per le emergenze e quando c'è la viaria, quando c'è la peste suina e quando c'è il blocco delle esportazioni. Quindi noi abbiamo veramente un flusso di soldi continuo che viaggia in particolare verso la zootecnia che è un po' la guida, è un po' quella che modella l'agricoltura con questa gigantesca domanda continua di prodotti agricoli. Questi soldi della PAC, la proposta che abbiamo fatto noi quando è stata rivista e è stato fatto il piano nazionale italiano sulla PAC, è stata quella di invertire le regole, cioè non diamo agli allevatori soldi per ogni capo che allevano in più, diamo gli soldi per diminuire il numero dei capi fino ad arrivare a una soglia che è stimata come la soglia sostenibile da un certo territorio che è anche quella tra l'altro degli allevamenti biologici. Ci sarebbe margine, c'è margine per fare questo cambiamento, c'è margine dal punto di vista economico. Ovviamente serve una grande rivoluzione culturale, in primis nella politica e in seguito anche nella società. La società, come sappiamo, è sempre un po' più avanti della politica e non scandalizza più nessuno dire che dobbiamo adottare diete più basate su prodotti di origine vegetale. È anche il modo per disinnescare l'accusa che fa col diretti che vogliamo produrre meno e poi importare prodotti dall'estero che sono anche meno sostenibili. Il problema è che, per tornare all'acqua, se noi non interveniamo su questo settore, che nel settore agricolo è uno dei settori che richiede più utilizzo di acqua, rischiamo veramente di mettere a rischio la sicurezza alimentare, perché nel momento in cui inizia a mancare l'acqua, nel momento in cui gli eventi estremi devastano i campi, noi dobbiamo avere margine e avere una maggiore efficienza dei terreni e dell'acqua e dire se io ho poche risorse, non ho più le risorse che avevo 50 anni fa, adesso ce n'ho un po' di meno, con queste poche risorse cosa produco? Ne uso la metà per produrre tanto così di carne che poi magari diventerà anche un bene di lusso? Oppure quella metà la utilizzo per produrre legumi, per far mangiare dieci persone invece che due? Questo è un po' il ragionamento di risparmio delle risorse che vorremmo che venisse fatto, che molto difficilmente soprattutto con questo governo verrà fatto, per fare una battuta in un altro incontro sempre informale al Ministero dell'Agricoltura ci è stato detto che una delle possibili soluzioni è coltivare maggiormente in Africa per produrre ciò che non riusciamo a produrre qua, quindi il livello è questo, però sappiamo che la società civile è sempre più avanti della politica, quindi noi quello che vogliamo fare a breve è lanciare innanzitutto una moratoria sui nuovi progetti di allevamento intensivo che appunto consumano acqua attraverso le coltivazioni, ma consumano e impattano sull'acqua anche in un altro modo, perché anche l'acqua inquinata è comunque risorsa idrica sottratta alla disponibilità umana fino a che la natura non la pulisce di nuovo e avviare appunto una riduzione del numero degli animali allevati e di livelli di produzione e di livelli di consumo di almeno il 50%. L'ultima cosa che dico sul decreto siccità, perché appunto sulla salute dei suoli agricoli eccetera è stato già detto e appunto quanto sia cruciale anche per ricaricare le falde che i suoli siano coltivati non in modo intensivo ma in modo agroecologico è già stato detto. Una piccola chicca diciamo del decreto siccità è che si è colta l'occasione per sdoganare nuovamente gli OGM in Italia, gli organismi geneticamente modificati, questo sempre per dire quanto siano potenti le lobby agricole e quanto sia politico il tema. Con la scusa di trovare coltivazioni più resistenti alla siccità è stato inserito un emendamento al Senato che è passato e quindi adesso è legge per autorizzare le sperimentazioni in campo delle nuove tecniche di ingegneria genetica. Questo significa che se io ho il campo biologico e quello vicino a me sta sperimentando gli OGM nulla mi proteggerà mai dal fatto che comunque l'OGM, l'organismo geneticamente modificato in natura si possa mutare e possa appunto passare di campo in campo. È appunto un qualcosa di molto grave contro il quale Greenpeace e altre organizzazioni si stanno battendo, un qualcosa che non ha assolutamente nessun fondamento scientifico perché la resistenza alla siccità nelle piante è determinata da migliaia di geni diversi quindi non può esserci l'intervento chirurgico che magicamente fa diventare una pianta più resistente alla siccità. Si è trovato semplicemente un modo per andare incontro alle richieste delle big pharma e delle lobby agricole che da anni premevano per rimettere gli OGM in circolo senza bisogno di tecchettatura e senza bisogno di autorizzazioni particolari. Vedremo come andrà a finire e in qualche modo proveremo a aggiornare tutti e tutti su questo argomento. Io chiudo solamente dicendo che se vi interessa domani esce proprio un lavoro curato da Greenpeace sullo stress idrico in Italia quindi proprio sul rapporto tra prelievi idrici e disponibilità e dal quale come è ovvio che sia emerge che il territorio critico da questo punto di vista in Italia è il distretto del Po quindi proprio i luoghi dell'agricoltura e della zootecnia intensive. Quindi se domani qualcuno desidera approfondire il tema ci sarà materiale insomma pubblicato. Io mi fermerei qui.